In che modo avviene la comunicazione sulla rete internet? Quali sono gli ingredienti per far sì che io possa collegare un mio laptop, un mio smartphone alla rete internet? Innanzitutto abbiamo la necessità di sottoscrivere un contratto con un Internet Service Provider. L'Internet Service Provider è un fornitore di connettività, come ad esempio Telecom Italia, Vodafone, Fastweb, Tiscali, eccetera, che ci forniscono tipicamente un modem all'atto della sottoscrizione del contratto che non è nient'altro che un apparato di rete che consente di collegarci all'Internet Service Provider e che traduce i segnali che vengono trasmessi dall'Internet Service Provider in un linguaggio comprensibile ai nostri dispositivi di casa, quindi il nostro laptop, il nostro smartphone, eccetera. Quindi sostanzialmente il linguaggio che viene compreso dai nostri dispositivi di casa sono linguaggio binario, 1, 0, eccetera, eccetera, quindi il modem esegue questa traduzione del segnale che arriva dall'Internet Service Provider in un linguaggio comprensibile per i nostri device. Tipicamente nella nostra abitazione abbiamo più device collegati, abbiamo appunto smartphone, laptop, eccetera. Ad ognuno di questi device deve essere assegnato un indirizzo IP, cioè nel momento in cui si sottoscrive un contratto con l'Internet Service Provider, affinché il mio device possa essere connesso alla rete internet e possa navigare, questo deve avere un indirizzo IP univoco. Questi indirizzi IP rappresentano univocamente il mio device sulla rete internet. Non è possibile che vi siano più indirizzi, più device con lo stesso indirizzo IP. Quello che succede nella nostra abitazione è che noi abbiamo appunto più device connessi alla rete internet, quindi abbiamo ad esempio più smartphone, più laptop, eccetera. Come avviene questo tipo di comunicazione? Beh, un apparato di rete che in questo caso consente questo tipo di comunicazione è lo switch. Lo switch ha una serie di porte che consentono quindi di collegare diversi device, quindi immaginiamo di avere più laptop, che andiamo a collegare con queste porte e andiamo a collegare non più quindi il laptop direttamente al modem, ma andiamo a collegare direttamente il modem allo switch. In questo caso ognuno di questi device sarà connesso alla rete internet e avrà quindi un indirizzo IP differente l'uno dall'altro, proprio perché come abbiamo detto, ognuno di questi deve avere un indirizzo IP univoco, ossia deve essere univocamente definito sulla rete internet. Tuttavia abbiamo due tipologie di problemi. Primo problema, questi device saranno direttamente esposti sulla rete internet, quindi abbiamo un problema di sicurezza. Secondo problema, l'internet service provider non ha a disposizione tutti questi indirizzi IP da assegnare a tutti i nostri dispositivi di casa. Quindi quello che avviene è non più un collegamento di questo tipo, ma mediante un altro apparato di rete, che è il router. Il router non è nient'altro che un apparato di rete che consente la comunicazione tra due reti differenti, tra più reti differenti in realtà. Quindi quello che succede è non più avere un collegamento di questo tipo, ma un collegamento con il router, che è costituito da due parti fondamentalmente. Una parte che consente appunto la comunicazione con l'internet service provider, mediante appunto questa parte di modem, e un'altra parte invece che ha queste porte che non sono nient'altro che delle porte switch. Quindi sostanzialmente abbiamo all'interno di questo router una componente switch, alla quale possiamo agganciare quindi direttamente degli altri device, altri laptop eccetera, oppure agganciare un altro switch al quale sono agganciati a sua volta degli altri device. Quindi fondamentalmente se il numero di porte all'interno del router non è sufficiente, perché dobbiamo agganciare fisicamente più dispositivi, possiamo tranquillamente avere un altro switch, come in questo caso, e collegare direttamente questi altri device internamente. anche in questo caso, quindi abbiamo che il nostro device che abbiamo collegato qui avrà un suo indirizzo IP, ma attenzione, l'indirizzo IP in questo caso assegnato dall'internet service provider sarà un indirizzo IP univoco che viene assegnato al nostro router, mentre invece questi indirizzi IP 1, 2, 3, 4 sono indirizzi IP privati, che sono quelli che rappresentano i nostri device all'interno della nostra rete locale. Quindi qui abbiamo la LAN, cioè la Local Area Network, che è tutto quanto quello che avviene presso la nostra abitazione. Questi indirizzi IP invece che ci viene assegnato dall'internet service provider è un indirizzo IP pubblico che rappresenta in maniera univoca i nostri indirizzi IP quando navighiamo su internet dalla nostra abitazione. Quindi tutti questi device che stanno collegati alla rete casalinga saranno visti dall'esterno con quest'unico indirizzo IP che ci viene fornito dall'internet service provider. Internamente alla nostra LAN, quindi alla nostra rete locale, ognuno di questi device avrà un proprio indirizzo IP privato. Normalmente quello che succede presso la nostra abitazione è che abbiamo poi a che fare con una connessione Wi-Fi. Quindi quello che succede è che possiamo agganciare sempre alle porte switch quello che viene chiamato un access point Wi-Fi cioè un access point Wi-Fi che è in grado quindi di irradiare la rete internet mediante appunto un segnale wireless. Quindi possiamo a questo punto avere il nostro smartphone che è collegato alla rete Wi-Fi quindi più smartphone collegati alla rete Wi-Fi e anche questi avranno un proprio indirizzo IP privato che sarà differente da tutti quanti gli altri indirizzi IP ma verranno visti dall'esterno sempre con l'unico indirizzo IP fisso che ci viene assegnato dall'internet service provider. Quindi i componenti che abbiamo in qualche modo messo in gioco in questa configurazione sono gli apparati di rete che abbiamo messo in gioco sono il modem, sono il router, lo switch, l'access point Wi-Fi. Tipicamente quello che avviene è che nel momento in cui viene sottoscritto il contratto con l'internet service provider ci viene fornito direttamente un unico apparato di rete che noi chiamiamo comunemente router ma che a tutti gli effetti non è nient'altro che un modem che ci consente quindi di comunicare con l'internet service provider di tradurre il segnale in un linguaggio comprensibile ai nostri device laptop, smartphone, eccetera quindi una porta che ci consente di collegarci verso il nostro internet service provider delle porte switch che ci consentono di collegare fisicamente quindi i nostri dispositivi mediante cavo di rete oppure avere direttamente la possibilità di collegarci tramite Wi-Fi perché il nostro routerino di casa tipicamente anche delle antennine ci consentono appunto di avere una rete Wi-Fi quindi questo combo che ci viene fornito dall'internet service provider che possiamo acquistare e che noi chiamiamo router a tutti gli effetti, ha un modem, è un router, è uno switch e un access point Wi-Fi